Domani giornata mondiale del diabete, qual è il programma retino? Allora, domani mattina in questo convegno si discuterà proprio di Arezzo e provincia come territorio ricordando i numeri che sembra che siano venuti fuori e sono oggettivamente molto pericolosi perché si parla del 6% e perciò in Arezzo e provincia 18.000 persone. Il convegno sarà ospitato? Sarò ospitato all'interno del San Donato e soprattutto dopo la giornata di domani, sabato, andremo all'Ipercop dove faremo quello screening che tutti gli anni facciamo per tutti, insomma, per la popolazione. Il servizio, l'unità anzi di diabetologia del San Donato di Arezzo però insomma è molto efficiente, nonostante questo i casi stanno aumentando. I casi stanno aumentando perché sembra che sia un modo di vivere della nostra popolazione occidentale anzi addirittura una cosa, una chicca che vi do è che gli stranieri che vengono in Italia e che in genere per DNA alcune tipologie non soffrono di questa patologia, sembra che una volta dopo un paio di anni che sono qui con il nostro modo di mangiare e di vivere invece si avvicinano al diabete. L'appello è, oltre a partecipare a questa giornata, avere stili di vita più sani, passeggiate, movimento e cibo assolutamente più sano e meno calorico, meno contenente agenti che possono poi scatenare il diabete. Soprattutto questo va detto alle mamme e ai loro bambini, c'è uno stile corretto di vita, aiuta molto anche la crescita.